Io sono Filippo Fossati e sono un deputato del Partito Democratico. Il mio rapporto con il gioco? Io vengo da un grande movimento, quello dello sport per tutti. Lo sport per tutti è gioco, non è prestazione agonistica, non è ricerca spasmodica della medaglia, è divertirsi, stare insieme, stare bene, stare meglio attraverso il movimento e il gioco di movimento. Quindi sono il gioco. L'azzardo è la parte oscura del gioco, è quel momento in cui per la scommessa che mette in campo i soldi, una cosa importante, un mezzo feroce di scambio importante per la nostra vita, fa diventare un gioco un qualche cosa che si combatte con se stessi. E ci isola e ci mette in contrasto con gli altri, con gli altri veri o con gli altri virtuali, ma sempre in contrasto. È importante che qui si dimostri e si racconti che il gioco non d'azzardo può curare l'azzardo, perché il gioco vero è il gioco che ci mette insieme agli altri, è il gioco che ci apre al mondo e non ci chiude nelle nostre paranoie. Grazie a tutti!